Si chiamava Anna, Emma Snape aveva 34 anni di età, purtroppo è morta, non c'è più. Era una madre di due figli e pensava di avere soltanto un'influenza piuttosto forte. In realtà i sintomi hanno parisato qualcosa di molto più grave. La donna infatti a febbraio ha iniziato ad avere quelli che sembravano i sintomi classici di un raffreddore, però la sua risoluzione è andata a peggiorare in maniera rovinosa e è stata quindi ricoverata. Che cosa aveva la donna? Semplice, un tumore, un cancro, una neopasia, come nel ricerco medico viene chiamato. Tosse secca, raffreddore, una stanchezza, la morte purtroppo si è verificata. Aveva una EHE, emangioendotelioma, epitelioide, così si chiama. Un brutto cancro, una malattia che colpisce una persona su un milione che va a far sviluppare nelle cellule che riveste poi sanguigni qualcosa di molto brutto. Poi la moltiplicazione di queste cellule avviene in maniera abbastanza elevata, feroce e quindi si verifica la morte. Va bene? I sintomi tipici sono quelli di tosse, difficoltà del respiratorio, il dolore addominale e una grande perdita nel peso corporeo. Non è stato facile individuare, alla fine però si sono resi conto che hanno un tumore come questo. Grazie a tutti, il video termina qui, fatevi sapere cosa ne pensate e datevi le vostre opinioni. Emma Snape, riposi in pace, amm.